Lui è John Tuffer. Lavoro da 35 anni in questo campo. È il gestore di bar più conosciuto d'America. Non c'è nessuno più rispettato di me nell'ambiente. La sua missione? Trasformare un incubo... Questo è il peggior locale che abbia mai visto. ...in un sogno. Sai cosa sento? Cosa? Profumo di soldi. Ma dovrà faticare parecchio. Se te ne vai in giro a gridare che odi i clienti, ti stai licenziando da solo. In prima visione, bar da incubo, la nuova stagione. Da lunedì 9 febbraio alle 18.50 su Cielo.